Vi mostro l'ultimo arrivo di Discus Heckel del rio Ninin, arrivati il venerdì 18 novembre. Questo è un nuovo, una nuova importazione. Adesso gli ho versato del cibo, del Chironomus, e loro sembrano gradirlo. Questi sono gli Heckel Ninin. Sono abbastanza voraci, sintomo che non sono tanto stressati. Nella vasca a fianco, invece, abbiamo già, li ho messi in un altro video, gli Abacacchis, sempre gli acquafasciata Abacacchis, Heckel Abacacchis. Mentre nella vasca, ancora a fianco, abbiamo dei Sinfisodon Tefe, sempre Wild, varietà Wild. Questi sono di taglia XL. Questi sono quelli che l'erba del vicino è sempre più verde. hanno visto il Chironomus della vasca a fianco e vogliono passare dall'altra parte, non vedendo quello che hanno loro nella loro propria vasca. Molto belli questi esemplari. vedete, abbastanza voraci. Grazie. 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 Grazie.